Ci sono anche quattro giovanotti della formazione Berretti, tra i convocati di Gaetano Oteri per la gara di domani contro il Pisa. Si tratta dei difensori Arena e Bruno, del centrocampista Lettieri, dell'attaccante Simonetti. Numero esiguo, infatti, quello dei calciatori a disposizione dell'allenatore siciliano. Non ci saranno Mazzeo e Negro, che potrebbero recuperare solo per la partita di Avellino. Niente convocazione anche per Diagura, Gaes e Cardina, due giocatori che in queste settimane non si sono praticamente mai visti e quindi mai utilizzati. In difesa, dunque, Oteri darà spazio ancora ai due giovani, Baldan e Chiosa al centro, con Daffara e Giuliatto confermati sulle corsie laterali. In mediana De Liguore e Bruno con Rizza, che si alternerà a Corapi, nella fase offensiva che sarà presidata da Evacuo e Nicola Russo. E passiamo in casa Paganese. Non ce l'ha fatta l'argentino Fernandez, dopo aver stretto i denti per essere in campo all'Arena Garibaldi di Pisa per disputare il derby poi perso con la Nocerina. Il difensore ha dovuto dare forfè per la gara di domani con la Cararese. Contro l'ultima della classe, dunque, oltre a Scarpa, mancherà proprio Fernandez, oltre ad Agresta e Neia, che sono fermi ormai da tempo. Mister Grassadonia si gioca tantissimo in terra a Toscana. Non portare a casa un risultato positivo potrebbe incrinare il rapporto con la dirigenza, se non da un punto di vista strettamente interpersonale, quantomeno sotto l'aspetto lavorativo, nel senso che poi la società sarebbe costretta a dare una scossa.